Questo è un annuncio davvero importante. Stiamo selezionando i primi volontari per il nostro nuovo programma, Aini Social Lab. Vi piace il nome? L'abbiamo scelto proprio perché si tratta di un laboratorio con obiettivi sociali. E cosa faremo in questo laboratorio? Misceleremo formazione e volontariato seguendo una formula molto speciale inventata da noi. Con questa miscela saremo in grado di sostenere gli enti della nostra rete, l'Aini Network, andando a soddisfare le loro richieste di collaborazione più ambiziose. Il disegno di un nuovo progetto, la scrittura di una proposta di finanziamento, oppure anche un nuovo piano di comunicazione e così via. E' certo perché i volontari riceveranno una formazione base e una specifica e saranno sempre accompagnati da Aini. Ti va di unirti a noi? Scrivici e ti contatteremo per darti maggiori informazioni.